Questo nastro è P, ha 5-6 canzoni, 6, ma una è di 40 secondi, quindi dico 5, costa 5 euro e l'abbiamo registrato qua live, stanno logo, se lo volete, ci rivolgete, vi rivolgete a noi, ve lo vendiamo, raggiungiamo un sacco, e, boh, per i notti qui, perché no? Perché no? Grazie.